Passiamo a Milano, 3 novembre del 71, doveva essere la gara di ritorno, sarà quella di andata in pratica, il gol abbiamo visto di Bellugi, poi Boninsegna al tredicesimo e fa 2 a 0, poi Lefebvre al trentottesimo fa 2 a 1, Jair al cinquantottesimo, porta il punteggio sul 3 a 1. Vittkamp all'ottantanovesimo, 3 a 2, ma Ghio al novantesimo rimette le cose al posto, 4 a 2 e passa l'Inter perché 0 a 0.